ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video allora con la partita inghilterra ucraina che si è da poco conclusa inghilterra 24 0 vittoria senza storia si è completato il tabellone delle semifinali e quindi le magnifiche quattro che si affronteranno in semifinale il 6 luglio e il 7 luglio saranno il 6 luglio che è martedì italia spagna il 7 luglio mercoledì danimarca inghilterra final four che avranno luogo tutte al a wembley in inghilterra e quindi saranno due partite molto molto belle secondo me perché anche la danimarca che oggi ho vista dimostrato di essere veramente un osso duro quindi l'inghilterra dovrà stare molto attenta a questa danimarca perché ricorda molto quella che vinse l'europeo del 92 dove tra l'altro ironia della sorte in porta c'era peters michael no padre dell'attuale portiere casters michael portiere dell'eicester quindi anche questo volendo può essere anche un come si può dire benaugurante diciamo per tifoio danesi ovviamente vedere un po poi quello che succederà però strana coincidenza no che l'ultima volta che a danimarca è arrivata in semifinale e poi l'ha vinta sta appunto nel 92 quando poi vinse la la coppa con appunto in porta la allora portiere se non vado il ratto il mancio united peters michael vedremo un po quello che accadrà adesso tra domani e lunedì le quattro nazionali si prepareranno a queste semifinali e vedremo un po secondo me allo stato attuale delle cose la finale più probabile secondo me potrebbe essere italia inghilterra poi vedremo un po quello che accadrà chiaro l'inghilterra un vantaggio non indifferente che gioca in casa e quindi sicuramente per loro è un'occasione irripetibile no poter alzare questa questa coppa tra le buone amiche però vediamo vediamo l'italia e la danimarca e la spagna proveranno in qualche modo a a vincere la coppa anche se sono sincero è io vedo l'inghilterra favorita ma per il semplice fatto che gioca in casa vedremo un po poi quello che accadrà intanto ragazzi io vi saluto vi auguro una buona notte e da parte di bianco nero me fino alla fine forza juventus sempre